Voci.fm, il sito delle voci. Enzo Iacchetti su Voci.fm, allora abbiamo oltre ad essere un attore e ovviamente un cantante, hai assaggiato anche il doppiaggio, in che modo è qua? Intanto ho doppiato quei pochi film che ho fatto che non sono neanche mai usciti, inutile citarli, ho doppiato le parti che non erano venute bene in diretta, però io sono doppiatore di due cartoni, di due film di cartoni che hanno avuto molto successo, uno è The Brave, dove doppiavo uno dei tre capi che avevano i figli che dovevano andare in sposa alla ragazza rossa e l'altro è la Ida degli alberi con le musiche di Morricone, dove ho anche cantato una canzone scritta da Ennio Morricone, personaggio grassone che mangiava panini in continuazione. Cosa ti è piaciuto del doppiaggio? Cosa ti piace di questa professione? Mi piace la sfida che fai con il tempo, con le labbra degli altri e le tue, è una cosa che a me è piaciuto molto, mi piacerebbe solo che ormai ho una voce troppo identificabile, almeno che non la cambi, capisci se la cambio diventa diverso. Senti a proposito di voce come la usi in modo diverso? Quando sei a teatro canti, quando hai doppiato, quando fai striscia ad esempio in tv? No, la striscia è la mia, la teatro è la mia, quando canto è chiaro che spingo, faccio i piani, i forti, ho studiato musica, quindi sono molto preparato, mi vanto di esserlo. E nei doppiaggi se mi chiedono una voce di un tipo particolare, io ho lavorato nelle radio tanto, ho fatto tante voci ai tempi del Radio Libere, e nessuno si accorgeva che ero sempre io, però cambiavo orario, ora vi lascio allo zio seme, buongiorno ragazzi, e faccio tutte queste cose qua, insomma me la cavo, sono un buon attore. Te la curi in qualche modo, no? Lascia la natura? Sì, 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 ma anche all'intuizione, ecco, non solo alla natura, però la voce c'è, nonostante l'età, a voci.fm dico grazie di esistere da Enzo Iacchetti. Chi lavora con la voce è su voci.fm. Scarica l'app di voci.fm, gratis su App Store e Google Play.